Il problema sversamento selvaggio è diventato un comune denominatore per quasi tutti i comuni dell'agro nocerino sarnese e Sarno non è da meno. Il sindaco della città, dottore Giuseppe Canfora che sul problema dei rifiuti solidi urbani ha speso molta parte del suo tempo ha dichiarato guerra aperta e senza quartiere ai transgressori che vanno a sversare di tutto e di più in luoghi dove la sorveglianza è ed è stata più difficile e complicata per cui il problema sversamenti si è acuito anche se, dice il sindaco di Sarno, si sta tentando di individuare i responsabili e infliggere loro denuncia e richiesta danni morali, materiali e legali. Non basta, aggiunge il sindaco di Sarno, dottore Canfora, ridurre i costi e le bollette con un lavoro accurato e meticoloso da parte dell'amministrazione e in questo caso particolare del vice sindaco Gaetano Ferrentino e poi dover assistere e sopportare azioni indegne e letali per l'ambiente e per la città stessa. Per cui assicura il sindaco di Sarno utilizzeremo ancora di più strumenti ed azioni per combattere la illegalità ed amplieremo qualora ce ne sia necessità video sorveglianze e pattuglie ambientali che dovranno vigilare sui luoghi pedemontani e non solo, ma tutti i luoghi proprio frequentati. È guerra agli sversamenti selvaggi ed illegali e a chi pensa di risparmiare sulla perdita dei cittadini e della città. I reati contro l'ambiente perché qualche giorno fa in seguito all'ennesimo sversamento di rifiuti particolari, di rifiuti purtroppo pericolosi fatti da un criminale in zona Torregatto io ho inviato una lettera al prefetto e una lettera al questore. Credo che noi dobbiamo intensificare necessariamente la lotta contro chi abusa, sversando non soltanto occasionalmente i rifiuti lungo le strade, lungo zone più o meno lontane dalla grande circolazione, ma soprattutto stare attenti a chi in maniera veramente criminosa abbandona premeditatamente non solo il sacchetto selvaggio, ma tonnellate di rifiuti che hanno un codice, codici particolari e che devono essere smaltiti da industrie particolari. Quindi sono reati veramente molto gravi. Grazie a tutti.